Le feste natalizie sono alle porte e sono l'occasione per un cambio di look per le serate natalizie oppure per pensare a un'acconciatura facile e d'effetto per il capodanno. Tra i must di stagione, come spiega l'airstylist Cristiano Russo, i long bob, le tinte a sfumare tono su tono e le tracce spettinate. In questo momento vanno moltissimo questi long bob o anche un po' più corto sulla clavicola perché donano comunque morbidezza al viso, qualsiasi tipo di viso, sia che ha difetti o se non ha difetti e comunque rendono una ragazza un po' più glamour, un po' più vivace, un po' più morbida e riescono anche a farle a casa perché è importante che non solo dal parrucchiere esci con la messa in piega bella fatta ma anche e soprattutto a casa. Ultimamente sta andando moltissimo il balayage che è una schiarita naturale, tono su tono, anche massimo due toni da fare dalla radice alla punta di vario genere, puoi farlo dal biondo miele o puoi fare un caramello o un po' più nocciola ma anche molto rame. Mentre per le feste il cenone di Capodanno e per lo scoccare della mezzanotte le ultime sfilate hanno portato in passerella teste spettinate, trecce, code alte e naturali ma con un pizzico di originalità che le rende sempre attuali.